Sono servite oltre quattro ore di discussione per giungere all'approvazione di tre proposte di deliberazione nel Consiglio Comunale di Andria, tornatosi a riunire ieri sera. La prima, passata all'unanimità, riguarda il progetto e lo schema di convenzione per la realizzazione di una casa famiglia tra via Zandonai e via Toscanini. Approvato a maggioranza invece l'atto di indirizzo per l'affidamento in concessione decennale della struttura ubicata presso la villa comunale da destinarsi a comunità socio-riabilitativa per persone affette da disabilità. Passa sempre a maggioranza una delle tre proposte di iniziativa popolare presentate dal Movimento 5 Stelle, precisamente l'atto di indirizzo per la verifica dei linee a tempimenti dell'impresa appaltatrice nel servizio rifiuti e igiene urbana. La proposta è stata emendata dalla maggioranza contro il parire delle opposizioni che ne avrebbero voluto conservare l'integrità sostanziale. In quanto proposte di deliberazione modificativa e del vigente appalto sulla gestione dei rifiuti, ha difeso il suo operato la maggioranza, andavano ascoltate e recepite con appositi emendamenti le osservazioni degli uffici tecnici. Non ha mancato di accendersi la discussione sulle osservazioni della Corte dei Conti sul rendiconto 2012 del comune di Andrea. Ieri era prevista in aula la sola comunicazione istituzionale della deliberazione licenziata dalla magistratura contabile. Sul tema il sindaco Giorgino si è detto invece disponibile ad aprire un dibattito con le minoranze, ma sono state questi ultimi e arriva a dire che tale argomento dovrà essere oggetto di un consiglio comunale monotematico, così come promesso dalla stessa maggioranza in sede di conferenza dei capigruppo. Rinviate infine, vista la tarda ora, le altre due proposte di iniziativa popolare del Movimento 5 Stelle.